Vesux Concept Food, un'esperienza gastronomica tra tradizione e innovazione. Vesux Concept Food è braceria, pizzeria, burgheria, gastronomia in un ambiente ampio e spazioso dal design industriale. Pizza e panini sono anche gluten free. Vesux Concept Food è anche lounge bar con il banco salumi dove gustare ricchi taglieri o semplicemente un aperitivo o un cocktail. Ampia la carta dei vini e la selezione di birre. Vesux Concept Food, Casoria. Al Kennedy si gioca la gara valida per la settima giornata del campionato Under-17, Girone C. Gli azzurrini hanno otto punti in classifica. Dopo un ottimo approccio hanno avuto un calo nelle ultime due gare contro Lazio e Stato del Nitano. Hanno portato a casa solo un punto. Il Catanzaro ha solo i tre punti conquistati in casa contro il Cosenza, prima di rimediare quattro sconfitte consecutive contro Bari, Frosinone, Palermo e Lazio. Inizia la partita e al nono minuto ci sono subito le proteste dei giocatori del Napoli per un presunto fallo in area di rigore di Misiano su Pignarusa nel tentativo di calciare verso la porta avversaria. Il numero 5 del Catanzaro colpisce la palla e probabilmente anche la gamba dell'attaccante azzurro. Per l'arbitro non è né calcio d'angolo né calcio di rigore. Al 22esimo ancora Napoli in avanti sugli sviluppi di una rimessa laterale dalla sinistra. Attacca Pignarusa che serve Chiocca al limite dell'area di rigore. Il numero 11 azzurro ci prova con il destro a volo ma la palla termina a lato. Nei primi 30 minuti buon Napoli ancora pericoloso al 26esimo. Bel dribbling di Esposito che ruba palla e dopo uno slalom arriva al limite dell'area e prova col sinistro. Palla centrale il portiere la blocca in due tempi. Sul finire del primo tempo si fa vedere anche il Catanzaro. Contropiede di Aloisio che serve Panariello. Provvidenziale intervento di Marciano che la mette in angolo. Panariello sarebbe stato solo a tu per tu col portiere del Napoli. Nella ripresa non cambia il canovaccio. Sempre Napoli in avanti al 51esimo. Occasione enorme. Contropiede condotto da Favicchio. Arriva a tu per tu col portiere. E la scaglia altissima. Al 59esimo si fa vedere il Catanzaro in avanti. Batti e ribatti in area di rigore. La palla arriva a Madia che prova la rovesciata ma la palla termina di poco a lato. Al 73esimo ancora Favicchio a rendersi pericoloso. Ci prova col destro dal limite dell'area ma la palla non gira abbastanza. E termina alla sinistra del portiere. La pressione del Napoli si fa più intensa. Bosso all'85esimo e dall'interno dell'area di rigore ci prova col sinistro. Bravo Campolo a distendersi e a metterla in angolo. A due minuti dal novantesimo punizione dal limite dell'area di Favicchio. Il portiere non trattiene. Ci arriva sulla ribattuta Fabozzi che non deve fare altro che spingerla in rete. Azzurri in vantaggio. 1-0. L'arbitro concede 5 minuti di recupero ed è proprio al novantatresimo che il Catanzaro trova il pareggio. Bellissima palla di Misiano dalle retrovie. La parra rimbalza e beffa pugliese che viene anticipato da Ghiocca. Il numero 16 del Catanzaro beffa il portiere azzurro. Ci mette il piede e sigla l'uno a uno. All'ultimo secondo il Napoli si riversa tutto in avanti. Colpo di testa di Capozzoli su una punizione da 40 metri battuta da Prisco. La palla termina altra sopra la traversa. Continua il periodo no del Napoli che fa solo un punto in casa contro il Catanzaro. Che invece ritorna a fare punti dopo svariate sconfitte consecutive. Il cammino della squadra di Mister Annunziata riprenderà domenica prossima in trasferta contro la Juve Stabia.